La vita pulsa con ritmo umano a Orvieto, fulcro del movimento Città Slow, più qualità meno frenesia, una filosofia sempre più internazionale. Qui nella bella città Umbra, carica di storia e di atmosfera, da sette generazioni la famiglia Michelangeli intaglia il legno. Gaia Ricetti è la manager. La città Slow per noi è fondamentale perché non riusciamo noi ad avere lo stesso rendimento e lo stessa qualità del prodotto se non mettiamo la componente Slow all'interno della nostra produzione. A Orvieto, inerpicata sulla sua rupe, il centro medievale è chiuso al traffico dei visitatori, in cima si arriva con la funicolare. Ma i turisti vengono numerosi in ogni stagione per il meraviglioso Duomo e per assaggiare una vita ricca quanto misurata. Città Slow significa anche non sprecare risorse per il direttore di Città Slow International, Pier Giorgio Olivetti. Questo è Città Slow e questo, voglio dire, è un insegnamento universale che è anche un pezzo di antidotto alla globalizzazione negativa. Qui a Orvieto, fra gli artigiani del centro, non è una moda ma è il frutto di una tradizione millenaria, il ceramista Walter Ambrosini. Siccome non siamo ambiziosi, non vogliamo fare i soldi, vogliamo soltanto vivere tranquilli, quindi a noi piace stare qui e continueremo a fare celamica a Orvieto. Città Slow è un movimento aperto a qualunque città fino a 50.000 abitanti. Nato nel 99, oggi si è diffuso in 28 paesi, fra cui Corea del Sud, Turchia e Stati Uniti, e vorrebbe espandersi ancora con Orvieto come archetipo.